questa è la mattina del lancio la giornata è così il cielo è un po' coperto credo che sia un buongiorno per lanciarsi allora adesso voglio entrare per la finestra si bene sicura che vuoi fare questo tesoro ok siamo riusciti a sbloccare la porta che imprese difficile sarà stato un segnale del destino che ha la non deve andare a buttarsi con la caduta chissà dov'è la mickey con leo forse non si è non si è rappresentata ciao ragazzi ciao allora alberto facciamo facciamo quest'ultima cagata io ho lasciato già l'eredità a mio fratello questo è un documento per piacere il mio stiamo imparando qua come come metterci le posizioni eccetera interessante va benissimo testa alta questo sarà poi segnale testa alta perfetto questo sarà segnale va bene i video quelli che sono sulla sulle montagne russe che il verbo che si sente già per aria i video che sono andata la mia figa la mia fitta la mia fiume la mia fiatta la mia fiume e i Let's go One, two One, two, two Let's go One, two, three 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 Let's go